ciao e bentornati sul canale bentornati carissimi amici sul canale fai vedere eravamo in edicola abbiamo preso 10 pacchetti e ci hanno detto volete la scatola? certo che volevamo la scatola perché no? 10 pacchetti più altri pacchetti di Stitcher si abbiamo preso altre figurine e allora ci hanno dato direttamente il pacchettino negli Artonauti intanto facciamo vedere le 6 speciali che abbiamo trovato che sono queste poi andremo magari a rivederle dopo se ne troviamo altre in totale ci hanno detto noi avevamo detto forse erroneamente 7 invece gli Artonauti ci hanno corretto hanno detto 9 quindi ce ne mancano ancora tre ma siamo ben contenti perché lei è già aperta sto ancora parlando comunque velocemente vi sfoglio un po di pagine ma poi andremo a vederlo finito e non manca molto insomma non tantissimo diciamo ecco qua e voilà le più belle sono quelle con i paginoni centrali da completare e non c'eravamo accorti perché a volte siamo distratti a volte la scuola a volte le altre recensioni a volte le tante cose che abbiamo da fare che ci sono questi 5 biglietti dorati come in Willy Wonka ma bellissimi ma soprattutto bellissimi che Sara sta cercando perché a questo punto la sfida è trovare uno è già stato trovato almeno uno sicuramente non so se due ma uno è stato trovato mostro mi dai del mostro ecco eccolo qui vedete se trovi il pacchetto di figurine golden ticket se lo trovi in un pacchetto di figurine hai vinto un premio conservalo e segui le istruzioni guarda che bello assomiglia veramente tanto anche come tipo di scrittura a quello di Willy Wonka galassia antichi egizzi non ben identificato e non va a fuoco eccolo qua questa è diciamo la speciale la speciale normale qui andiamo indietro molto nel tempo i nostri protagonisti amici autonauti qui abbiamo Gesù nell'ultima cena e via qui è la carta appunto non speciale c'è anche la speciale ma ma si troppo veloce che abbiamo la galassia una gara una galassia delle tante tante grazie qui sempre l'ultima scena di leonardo qui ancora il dio anubi con un sarcofago ancora egizi sono tutti egizi oggi è un attimo una carta poi le carte le magari vedremo in velocità io non riesco a far vedere tutte queste carte contemporaneamente speriamo di essersi avvicinati alla fine del quanto bella questa del percorso anche questa è un'altra delle speciale facciamo a vedere dove la speciale dove la speciale una una parte della speciale ma guardate come brilla questa dorata questa è dorata questa è diamantata praticamente brilla come un cristallo questa è la più bella in assoluto una vetrata e brilla tantissimo questo erano i neuroni di topo che risultano come un'opera d'arte e qui un da new york su sta opera che con scale non è un palazzo ma non riesco a capire non lo conosco bene questo e andiamo avanti allora mi sa che molte di queste ci mancano questa potrebbe mancarci forse completare il lobster forse che abbiamo un pezzo della vetrata da completare che abbiamo la vecchissima formula 1 qui un capitello qui un disegno di leonardo e andiamo avanti siamo ancora nello spazio con le galassie antica grecia direi leonardo a vederlo così poi mi sbaglierò questo il primo selfie fatto disegnato vedi con selfie e qui questo non lo so di più preciso queste doppia ben trovata prima che abbiamo notte le dande pari e qui abbiamo un'altra opera di leonardo da vinci che non va qui perché una caz e che abbiamo trovato subito dopo in figurino ma che abbiamo già grazie tu stai nascondendo qualcosa vero un orologio meravigliosamente bello e poi ancora tutta l'ultima cena abbiamo trovato qui abbiamo trovato ancora l'ultima cena ok di nuovo notte le dande pari e questa carta mi sa che ci manca raga quanto è bella la venere la venere fantastica l'abbiamo vista a louvre questa lo sai vai lo so che stai aspettando con ansia di farci vedere quello che hai trovato dai vai no si intravede il dorato c'è qualche dorato ma sarà doppio magari dai fammi vedere ok e questa è doppia farfalle dorate questa è molto bella anche se non è speciale la trovo molto molto bella vedete le speciali si riconoscono 1 1 1 1 tutto brilla molto bello ma brilla male ce ne mancano ancora tre brilla male brilla malissimo allora visto che ne abbiamo trovato solo queste allora andremo ad attaccare queste e preparate preparatevi per il prossimo video in cui ne faremo vedere sicuramente altre non è vero che ne abbiamo tre ma ce ne ho trovato un'altra sono quattro va bene sappiamo a chi darne comunque quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale la prossima volta vediamo l'album le carce le me le dase tutte penso di sì poi teniamo solo le doppie per fare una partita memory memorabile memorabile partita memory la faremo alla fine dopo tutte le i video faremo una super mega partita memori con un tavolo tutte le carte si beh ma alcune sono doppie le doppie le toglieremo e faremo una super mega partita memory mettiamo però davanti le speciali così esatto così ha però le fate vedere tutte le si si lo fate vedere un paio di volte anche addirittura alla fine non sono sette ma sono nove quindi non ce ne manca una ma ce ne mancano tre e quindi noi andiamo avanti a cercare il biglietto il biglietto dorato e golden ticket e vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare schiacciare la campanella per la sua giornata su tutti i video e come sempre noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao fai disastri grazie a tutti